Si è svolta ad Ancona una conferenza indetta dall'Udc Popolari Marche per l'inizio della campagna elettorale del partito a sostegno del candidato alle regionali per il centrodestra Francesco Acquaroli. Presente all'evento il senatore Antonio Saccone, coordinatore regionale dell'Udc, che ha manifestato un appoggio del candidato di centrodestra, di cui il partito è parte integrante a livello nazionale. Marconi, capogruppo uscente dell'Udc in Consiglio regionale, ha rimarcato la necessità di un nuovo e giovane slancio per ripartire dopo anni, dice, di sostanziale immobilismo. Qualità umane e politiche, quelle di Acquaroli, riconosciute anche dall'ex presidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche, Vittoriano Solazzi, che ha sottolineato come la politica a tutti i livelli ha bisogno di valori e idee rintracciabili nel progetto Udc Popolari Marche. Il candidato Acquaroli, dopo l'investitura ufficiale, si è mostrato orgoglioso e soddisfatto della appoggio dei partiti di coalizione. Secondo il mio punto di vista, l'Udc e la presenza dell'Udc nella nostra coalizione è un valore aggiunto. Ci apre un mondo, ci apre una realtà, ci ricongiunge con dei valori che sono fondamentali per garantire un'alternativa al governo della regione Marche. Il lavoro, la famiglia, l'impresa, tutti i punti all'ordine del giorno del nostro programma, all'ordine del giorno dei cittadini marchigiani e dell'emergenza che coinvolge la nostra regione. Bisogna invertire questa tendenza e bisogna farlo con progetti chiari, concreti e facilmente fruibili da tutti, aprendosi e cercando di condividere questa sfida e cercando di condividere la ripresa perché la verità è che c'è anche da tante parti sociali e parti economiche del nostro territorio una volontà di partecipare che evidentemente non è stata appieno colta da chi ha amministrato finora questa regione e sta amministrando questa regione. All'evento hanno preso parte diversi esponenti politici marchigiani a sostegno di acquaroli tra cui anche il commissario provinciale Udc Davide del Vecchio. È una novità politica nel panorama regionale perché fino a poco tempo fa questo partito di centro era lato con il centro-sinistra, quindi ci saranno due sfidanti in queste elezioni regionali, una coalizione di sinistra che non ha più la parte centrale e invece si è andato a riformare l'intero centro-destra, quindi partendo dal centro fino alla destra. Questo credo che sia una grande novità perché nella regione Marche sono andati quasi sempre divisi queste coalizioni. L'aver riunito tutti è già un primo passo importante per cambiare le Marche perché l'obiettivo vero è andare a cambiare le Marche rispetto a tutto quello che è sotto gli occhi di tutti non funziona. Durante la conferenza sono stati presentati anche il simbolo e lo spot elettorale sottolineando le esigenze del territorio. Nella lista è presente anche l'imprenditrice cefanese Francesca Cecchini. Dopo le comunali scorse è stata proprio la tematica di Davide del Vecchio che mi ha seguito perché poi lui è stato escluso dalla coalizione, cosa che a me è pesata tanto. Hanno ricevuto la sua chiamata per questa candidatura e direi che non ci ho pensato tanto a dargli la risposta perché comunque sia io guardo molto le persone più che prima l'uomo e poi il politico.